39 Lelia Anche il Papa festeggia l'onomastico. Partecipa con la preghiera ai movimenti dei superiori. Il nome di Battesimo resta sempre. Da casa, 6 marzo 1948, sabato, ore 16. Fra Raffaele mio carissimo, che bel letterone, sono proprio contenta della tua contentezza e delle buone e liete notizie confermate da Padre Alessandro con l'aggiunta di altre che non ti dico per non farti peccare di vanità. Ringraziamo il Signore che compensa così la grande solitudine della mia casa. Martedì andai con Teresa, da Rob, Berto e Francesco. Stanno bene e sono contenti anche loro. Si sono lamentati però del tuo silenzio perché mi hanno detto che ti hanno scritto cinque volte. Può darsi che i superiori abbiano dimenticato di imbucarle, come fecero una volta con una lettera per noi che arrivò dopo un mese. Roberto mi ha detto che adesso va bene anche in matematica. Se tu lo vedessi non lo riconosceresti tanto. È colorito e di aspetto florido. Del resto anche di te mi hanno detto che sei diventato proprio un ciccione. I giorni passano e presto ci rivedremo se Dio vorrà. Il grano di Teresa cresce, aumenta in quantità. Anche la bimba sta bene e va abbastanza d'accordo con Leonardo che la va a prendere a scuola e spesso batti becca con lei. Stamattina è morto Zio Emilio Vaccaro con una bronchite fulminante. Prega per lui. Io andrò ai funerali che ancora non sono stati fissati. Padre Graziano è stato a Roma 15 giorni, ma mi ha proibito di iscrivertelo perché voleva venirti a trovare con padre Paolino e papà. Naturalmente tutto è sfumato. Lui è partito mercoledì lasciando i saluti per te e l'indirizzo. Ti mando un pacco e mille lire. Ringrazio San Giuda. Nel pacco che è per San Giuseppe, anche il Papa festeggia un onomastico del santo che aveva prima di cambiare il nome, troverai cacao, zucchero, zuccherato, marmellata, zucchero, immaginette e un numero di rabarbalo per Fran Mario. Avrei mandato qualche arretrato, ma non l'abbiamo più comprato. Saluto tutti i novizi e ringrazio a Fran Mario della Filotea. Vorrei sapere se dentro c'è la visita al Santissimo Sacramento di Sant'Alfonso degli Liguori, perché è una preghiera bellissima che leggo sempre con immenso piacere nella chiesa del Corpus Domini in Via Nomentana di fronte a Zia Maria. Ricordi? Ti ho mandato pure i rocchetti e gli achi con la cruna larga, così li infilerai più facilmente. Zia Gilda, marito e figlio sono partiti ieri per Napoli, ma ritorneranno presto. Zia è stata solamente a dormire da noi e zio e Mario a casa di nonno Umberta. Mario ha fatto la Santa Comunione a gennaio e dice la mamma che vorrebbe pure lui entrare in convento, ma solamente per studiare, senza commenti. Oggi portano a Napoli l'immagine della Madonna di Pompei. Immagina tu i festeggiamenti. Zia e famiglia hanno fatto il voto di seguire la processione anche perché Mario è salvo miracolosamente dal crollo di un palazzo in una via dove stava passando per andare a scuola. Prega assai per l'ufficio di papà che non gli lascia un po' di tempo libero e nemmeno un po' di tranquillità. Sono le quattro e mezzo e devo vestirmi per andare a Santa Teresa per la conferenza di Padre Alessandro. Non dubitare che pregheremo tutti per i prossimi movimenti dei superiori. O segui a tutti i buoni padri. A te con mille benedizioni ti abbraccia mamma. 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 Grazie.